Come fai il video? Ciao, come ti chiami? Ciao, mi chiamo Riccardo e sto implementando qualcosa che mi permetta ad altre persone come me di fare dei video che non ti prenda mai di sorpresa, anzi ti prende di sorpresa come tu stai facendo a me solamente in certe situazioni ed è un grosso problema Ok, come si chiama la start-up? Cover Clip Ok, grazie mille, ciao Vuoi vedere il logo? No